Si complica la realizzazione del sintetico allo Stadio Pallozzi in quanto non si farebbe in tempo con la gara d'appalto a far cominciare subito i lavori. A lasciarlo intendere è l'assessore allo sport e i lavori pubblici Mario Sinibaldi, visto che tarda ad arrivare l'ok della FIGC sul progetto del comune di Sulmono. Quando arriverà, spiega Sinibaldi, con i tempi di espletamento della gara si rischierebbe di far coincidere i lavori con l'inizio della stagione sportiva. Ciò potrebbe costringere le squadre locali a stare anche due mesi lontano dal Pallozzi per le gare casalinghe. Per questa ragione l'assessore non si dichiara affatto fiducioso sul progetto caldeggiato tanto nei mesi scorsi. Sembrava cosa certa dopo l'inserimento della somma di 400.000 euro nel piano delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 22 aprile con il bilancio di previsione 2017, ma non è tutto oro quel che luccica. Si prevede dunque che per quest'anno non ci sarà nulla facendo rimanere l'erba naturale al Pallozzi con tutti i disagi che si incontreranno nella stagione invernale. Oltre alle squadre sulmonesi lo stadio potrebbe essere utilizzato anche dai nero stellati per la serie D, visto che ci saranno tempi lunghi per l'omologazione del Lezio Ricci, ma l'assessore Sinibaldi parla chiaro. La priorità, dice, deve essere data alle formazioni di Sulmona perché senza il sintetico sarebbe complicato far giocare tre squadre su un terreno non in perfette condizioni. Grazie. Grazie.